L'argomento non torna prepotente come qualche mese fa, ma nelle interlocuzioni più o meno private sì. L'assessorato alla sanità potrebbe essere riassegnato. Il governatore Emiliano non sarebbe intenzionato a mantenere la delega ancora per molto. Aver dovuto rinunciare all'ex assessore palese del resto non è stato frutto di una sua decisione personale, quanto piuttosto di una scelta obbligata da pressioni esterne. Fatto sta che l'intenzione, ora, sarebbe quella di affidare la delega necessariamente ad un interno, già che i posti esterni sono tutti assegnati. Il nome in campo è quello dell'assessore al bilancio piemontese, che però sembrerebbe non essere intenzionato ad accettare l'incarico. E se così sarà, se il governatore cioè non riuscirà a convincere piemontese a cambiare delega, tornerebbe l'ipotesi di spostare l'assessore Pentassulia dall'agricoltura alla sanità, che ha già retto per diverso tempo nella legislatura vendola. In questo scacchiere si inseriscono le richieste del doppio assessorato avanzato dal Movimento 5 Stelle pronto a rientrare in giunta. Una partita questa che è intrecciata alla riconferma per la maggior parte dei capi di partimento. La proroga dei contratti dei superdirigenti ha come limite il 15 luglio, ma dal Tetris tra riconferme e spostamenti potrebbero dipendere anche gli assetti in giunta. Ma da quel che ormai appare certo, Montanaro, Sanità, dovrebbe essere riconfermato lì dov'è. Questo permetterebbe un tempo leggermente più lungo per capire a chi affidare la guida politica dell'assessorato.